Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Lachitalia e oggi sono tornato su Fortnite Ragazzi, nello scorso episodio ho provato, Fortnite era anche insieme al signor Raptor Oggi invece proverò Fortnite con zero costruzioni, cioè Fortnite senza buildare Purtroppo ragazzi, sono da solo perché il signor Raptor non è potuto esserci Ma io vi prometto lo stesso, una vittoria reale Ragazzi, io direi di iniziare abbastanza soft e andare subito a Borgobislacco, dai Non voglio andare subito a Pinnacoli, ma voglio prima riscaldarmi un po' E poi magari nelle partite successive andare a Pinnacoli Però prima iniziare soft Ok, c'è un tipo nella mia casetta Dov'è il pezzente? Eccolo! Oh, l'ho crepato, cioè l'ho crepato, l'ho ammazzato, come parlo? Dai che ci sono dei fight, mi do un mover perché voglio partecipare anche io a questi fight Dove sono i bro? Dove sono? Dove sono tutti quanti? Ok, sono lì, li vedo, li vedo Lo vedo, ah no, li vedo, sono due Eeeh, infame, dov'è? Dov'è? E qua? E qua? E qua? Sono tutti qua? Beh, petenti Eeeh, non l'ho mai preso Eeeh, ma questi cosa fanno? Timano? Ok, lui headshot Oh, daie, daie, daie Mazzaraga, non lo prendiamo mai Ma io devo seriamente migliorare la mira comunque Porca miseria, fa cagare la mia mira, raga Fa veramente schifo Eccolo, 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 eccolo Quando dico che devo migliorare la mira intendo questo io Che non lo prendo mai Non l'ho mai preso Una volta l'ho preso No, sicuro è rigenerato, mannaggia Oh, finalmente, annaggia Devo, sì, devo migliorarla Uh, lì, bro, un bro Eeeh, 45, grande Eeeh, lì c'è un altro lì dietro Dai, 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 dai Che se lo killo Sono un grande Eeeh, no, non l'ho, non l'ho killato Mannaggia Eeeh, vabbè, tutti i conti di me però Porca miseria Ok, lui muore Lui ora muore Mi sono rotto Oh, tu sei morto, grande Ora l'altro dov'è? È lì? Arrivo Arrivo ad ammazzare anche te, bro Oh, anche te, grandissimo, grandissimo Così vi voglio Così, belli, scarsi che mi piacciono a me Uh, lì è un altro Lì è un altro, bro Eeeh, un po' lontanino Provo ad andare in questa casa Magari lo riesco a prendere da qua Vediamo Eh, no, anche qua è un po' lontano Uh, c'è uno col rampino Eccolo Eh, vabbè, rampino e jetpack Cos'è? Eeeh, quante robe aveva su qua Quante robe Bello il suo pump Me lo prendo subito Il rampino No, no, no Io voglio il pump Ok, ok Eeeh, rampino quanto aveva di ricariche? Sette, no Allora mi tengo il mio Sei fuori E mi faccio anche il jack jack Che avevo lasciato nell'altra casa Me lo faccio subito Uh, lì c'è un fight Dai C'è un tipo che sta volando col jetpack Devo stare attento Perché quel col jetpack Sono Sono abbastanza in vantaggio Sinceramente Eh, questo è forte Puscio Puscio Checco Puscia No, no Non mi ha fatto sparare Mannaggia Mannaggia raga Ventunesimo 8 kill avevo Porca miseria Porca miseria Raga, io tento il borgobislacco Va Mi sento che borgobislacco Oggi Porta bene Quindi Provo borgobislacco Dai Eh, dai E come prima arma Proprio il cecchino Così se qualcuno mi puscia Mi fa il mazzo Io Dove essere inerme A soffrire Perché non posso difendermi Uh, è qua sotto pure Eh, io sono fregato Ok, 110 Però lui si prende un'arma Io no Io non ho armi Ah no Anche lui ha l'hacog Vabbè l'hacog Eh, l'ho chiamato col cecchino Dai, raga Senza mirare pure Ma poteva prendersi quest'arma Ma perché c'è la gente stupida Va Quest'arma E no Si è preso Ma con la k Aspettate Io Ma lui con la k Non è riuscito ad ammazzarmi Ma che scarso che era Raga Io col cecchino Lui con la k Ma lì c'è un lama Raga Lì c'è un lama Ma Sono tentato di andarla a prendere Va Ammazzo sto tipo E vado a prendermi il lama Ma E' andato Porca troi Tolona E' crepa Raga Qua sono andato vicino alla morte Qua sono andato vicino alla morte Porca miseria Questo qua mi serve per far ammazzare Questo qua Porca vacca Vado a prendermi il lama Se riesco Sempre se qualcuno Non me lo ruba Dimmi che l'ho preso Forse l'ho preso Sapete No No E no Ragazzi io direi Pinnacoli Ha pure i droni Sono bello carico Voglio di vincere Vado a Pinnacoli Vai vado in questa casa Dimmi che riesco Non Ok ce l'ho fatta Grandissimo Prendi qua Tutte l'armi Un bel pump Per iniziare Mi va bene Mi va bene Pure un jetpack Molto bello Molto bello Anche queste cose Direi di usarle Si Ma dove Lì No Le uso lì Dove c'è il tipo Mi tritta viola Questa è bella E' molto bella Uh per un cespuglio Molto interessante Mi faccio subito il cespuglio Molti voi penseranno Che io sia un camper Ma in realtà Mi faccio il cespuglio Soltanto perché così Se mi hitano Ho un colpo In cui non mi fa danno E a noi Cioè a me soprattutto piace Essa cosa Perché non voglio prendere danno Lì poi ho visto un tipo E non so se questa cosa Sia molto conveniente Però provo a Pushare Cioè pushare forse no Però provo A prenderlo Ok vado a pushare Vai Vado 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 Corro Corro dai 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 Ok grandissimo zio Si una pippa assurda Grandissimo Continua così Uh eccolo Lì è lì è lì è lì Dove scappi bro Dove scappi Dove scappi Inseguilo Vai 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 Ti inseguo Ok grande zio Grande Così ti voglio Grande Grande Dai che sento degli spari Provo ad andare a pushare Dove sono Dove sono Non li vedo Uh Però c'è un lama Quello è bello Dopo mi apre un lama Ok l'ho killato L'ho rubato la kill Ok ora vado a pushare Tanto io il jetpack Quindi Mi è abbastanza comoda Come cosa E lui è un vantaggio E lui è un vantaggio Non ne ho Mazzo ho killato anche lui Grandissimi Mi apro subito il lama Ragazzi È da due anni circa Che non apro un lama Questa sensazione mistica Di aprire il lama Era da un po' Che non ce l'avevo Dai 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 Quante cose mi danno Mazzo non mi ha dato niente Che alla fine Che schifo Ragazzi io mi ricordavo il lama Che era molto più bello Cioè mi ricordavo che era un botto più bello L'aprire il lama Invece fa Fa schifo Uh lì c'è un bro Ok lo vado a pushare E poi vado in safe Però io direi di provare ad ammazzare Quello in Quello lì Perché Lui è più in vantaggio Essendo vicino alla costa Però anche lui magari Ok anche lui l'ho killato Grande Ok grandissimo zio Grandissimo Grande Così ti voglio Grande Ora io direi di andare Nel Nel tornado E andarmene in safe Uh lì c'è un bro Lì c'è un bro Raga Lì c'è un bro Provo a pushare piano piano Spero che lui non mi abbia visto Perché se mi ha visto Può essere un problema Ok no Non mi ha visto Non mi ha visto Ok grande zio Uh questa arma È molto bella Molto È la cappa Epica Penso sia meglio Del mio R verde Quindi A suo punto direi di prendermela Ma eccolo lì Ok l'ho killato Ok grandissimi Grandissimi Undici kill Raga Undici kill Ah no che undici kill Nove kill Che sto dicendo Siamo rimasti in undici Infatti mi sembrava strano C'è un undici kill What Nove kill Nove kill Nove kill E nove rimasti Raga Dai 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 Sono concentratissimo Raga Perché vi ho promesso Una vittoria reale E voglio portarvela A tutti i costi Ragazzi A tutti i costi Oh 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 Crepa Crepa Eh come ti permetti Zio Come ti permetti Mi prendo subito Il suo pump però Che questo è buono Ah quel mitra Cioè quel mitra Quel Lancia granate Però Non posso tenerlo Mi preferisco Il jetpack Ok grande Mazza Mi voleva rubare La kill Il petente Sei calmino Sei calmino Siamo rimasti in due Raga in due Io contro lui Eeeh Nooo 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 Raga Nooo 11 kill L'ho fatto Lui nove Nooo Mannaggia Mannaggia Questo Questo non era proprio scarso Me la son giocata malissimo Io Eh però Lui non era scarso Però ragazzi Per questo video di fortemente è tutto Noi ci vediamo in un prossimo episodio Arrivederci a tutti ragazzi Sì